Grazie a tutti, buongiorno, grazie agli organizzatori per avermi invitato, un piacere essere qui e raccontarvi quello che succede nell'ambito di questa tecnologia, l'intelligenza artificiale e come ci può aiutare a costruire il futuro che vogliamo. Allora, prima cerchiamo di capire cos'è questa intelligenza artificiale, so che tutti voi ne leggete tutti i giorni sui giornali, alla televisione, nei film, eccetera, però questi titoli che si leggono possono a volte essere un po' forbianti quindi vi guiderò lungo un percorso dove spero che alla fine riuscirete a capire un po' meglio gli ingredienti di questa tecnologia e come fa ad essere così pervasiva nella nostra vita e se è pervasiva nella nostra vita e cosa può aiutarci a fare per il nostro futuro. Allora, l'intelligenza artificiale, questa è una definizione molto vecchia anche, che però viene sempre usata e praticamente è una disciplina scientifica, con tante sottodiscipline, sottotecniche, eccetera il cui scopo è quello di creare delle macchine che hanno un comportamento che sarebbe giudicato intelligente se fosse visto in un essere umano. Quindi, diciamo, è una definizione un po' vaga perché ci sono tante cose che non sono chiare prima di tutto cosa vuol dire essere intelligente per un essere umano, anche quella è una cosa che ancora non è ben chiara non sappiamo neanche bene. In questa definizione, questa idea delle macchine è una combinazione di software ed hardware quindi questa presentazione è per i non esperti, per tutti quelli che anche non si occupano di tecnologia, di scienza e soprattutto di intelligenza artificiale, quindi vi cerco di far capire cosa sono queste parole. Allora, la prima cosa, cos'è questo software? Allora, il software è semplicemente il modo in cui noi comunichiamo ai nostri computer cosa devono fare quindi sono i cosiddetti linguaggi di programmazione, ce ne sono tantissimi alcuni sono usati da tantissimi anni, alcuni sono molto nuovi ma in pratica sono necessari perché se noi comunicassimo con i nostri computer tramite il nostro linguaggio naturale e lo facciamo per alcuni aspetti ma non per dirgli cosa devono fare esattamente allora sarebbe troppo vago perché i linguaggi naturali come l'italiano, l'inglese hanno molte ambiguità che noi parlandoci l'uno con l'altro riusciamo a risolvere perché capiamo il contesto in cui vengono dette certe cose ma il computer non lo capirebbe e quindi abbiamo bisogno di linguaggi molto più precisi per poter comunicare ai computer cosa devono fare e questi sono i programmi scritti nei vari linguaggi di programmazione che poi vengono trasformati all'interno del computer nell'unica cosa che i computer capiscono cioè gli zeri e gli uni che sono l'unico linguaggio che effettivamente il computer capiscono ma noi non vogliamo comunicare con loro tramite zeri e uni, sarebbe troppo complicato per noi e quindi comunichiamo tramite questi linguaggi più precisi dell'italiano ma molto più facili da usare per noi piuttosto che gli zeri e gli uni quindi programmi che scriviamo per dire al computer cosa fare questo è il software l'hardware invece sono semplicemente i pezzi fisici del nostro computer sia che sia un computer o che sia un altro dispositivo come un telefonino o che sia un robot sono i pezzi fisici chiaramente capite che queste due cose sono molto collegate tra loro perché quello che un computer può fare o eseguire i nostri programmi è legato a cosa è possibile fare con i suoi pezzi fisici per esempio in un robot ha certe possibilità di muoversi anche questo robot che vedete qui che è un robot piccolino semi umanoide ma chiaramente io gli posso anche scrivere un programma che deve correre o fare chissà cosa ma se i suoi pezzi fisici non glielo permettono chiaramente non lo potrà fare quindi l'hardware e il software sono sempre molto collegati tra loro la terza cosa che c'era in quella definizione era la nozione di intelligenza quindi cosa vuol dire intelligenza? allora abbiamo detto anche per noi non è ben chiaro cosa vuol dire e per le macchine che cos'è che vuol dire? beh finora per le macchine come nozione di intelligenza si usa questa idea della razionalità cioè cosa vuol dire? vuol dire che se io gli do un problema e gli do un problema la macchina lo sa risolvere quel problema possibilmente in un modo abbastanza di alta qualità non necessariamente il modo migliore possibile ma insomma lo sa risolvere bene questo vuol dire essere razionali vuol dire saper raggiungere uno scopo prefisso prendendo e scegliendo le azioni migliori per raggiungerlo e questo è il tipo di intelligenza che noi finora abbiamo cercato di mettere nelle macchine un'altra idea di intelligenza collegata a questa che però lo guarda da un altro punto di vista che è stata definita tantissimi anni fa nel 1950 da Alan Turing e quest'altra che vi descrivo qui questo test di Turing era fatto così diceva che se io sono in una stanza e metto in altre due stanze in una ci metto un computer e in una ci metto un'altra persona ma io non le vedo, non so dov'è il computer, non so dov'è la persona e comunico tramite ognuno di loro con messaggi testuali con i testuali e posso comunicare quello che voglio chiedere quello che voglio, vedo le risposte dell'uno e dell'altro se io non riesco a distinguere chi è la macchina e chi è la persona in un certo senso posso dire che la macchina è intelligente quanto la persona perché si comporta dal punto di vista comportamentale come la persona questo è un test che chiaramente ha stato addirittura definito quando ancora non c'erano i computer nel 1950 e non è che viene usato dagli esperti di intelligenza ufficiale per capire se le macchine sono intelligenti o sono arrivate a un certo livello di intelligenza o no però è sempre rimasto lì diciamo come idea di una possibile nozione di cosa vuol dire per una macchina essere simile oppure no ad un uomo allora questa enfasi sull'intelligenza come razionalità cioè il fatto che le macchine devono saper risolvere un problema che io gli do ha implicato che negli anni e adesso vedremo dopo quanti anni sono che c'è l'intelligenza artificiale come disciplina di studio negli anni quella che è venuta fuori è quella che si chiama l'intelligenza artificiale debole cioè un tipo di intelligenza artificiale che come vi ho detto dato un problema lo sa risolvere nel modo migliore questo in contrasto invece ha delle idee di intelligenza artificiale cosiddette forti o generali dove l'idea è che si crei una macchina che sappia fare tutte le cose che sappiamo fare noi e anche passare da un problema all'altro come sappiamo fare noi cioè usare le informazioni imparate nel risolvere un problema per saper risolvere anche un altro problema che non c'entra niente fare associazioni eccetera quindi un tipo di intelligenza orizzontale che ancora non c'è che è molto lontana da venire e per ora ci sono solamente tanti sistemi di intelligenza artificiale che risolvono problemi molto specifici quindi questa l'intelligenza artificiale debole quindi questo per farvi capire che ancora non c'è questo tipo di intelligenza che era negli scopi originari degli studiosi di questa disciplina allora un'altra cosa di cui vale la pena capire è cosa vuol dire l'intelligenza artificiale cioè vogliamo veramente creare delle macchine che da sole in modo autonomo sappiano fare tutte le cose che noi sappiamo fare e anche meglio oppure vogliamo che queste macchine collaborino con noi aumentino la nostra intelligenza per aiutarci a fare meglio qualunque cosa dobbiamo fare nella nostra vita privata professionale nella vostra vita di tutti i giorni ecco questa seconda opzione è quella che molti ritengono è quella da seguire per il futuro cioè dei sistemi molto capaci che sono complementari a noi nelle capacità che hanno e che ci aiutino a fare meglio delle cose che dobbiamo fare a risolvere i problemi che da soli non riusciamo a risolvere qui vi faccio un esempio che era stato mostrato qualche anno fa in America di un ospedale dove avevano cercato di capire se le macchine potessero essere migliori degli uomini oppure no dei medici nello scoprire il cancro al seno dato certe caratteristiche certe informazioni sulle pazienti allora qui queste barrette sono la percentuale di errore che veniva fuori e la barretta più alta quella che dice 7,5% è la percentuale di errore dei sistemi di intelligenza artificiale migliori all'epoca quindi questi sistemi di intelligenza artificiale più o meno 7-8 volte su 100 facevano un errore la seconda barretta quella che dice 3,5% è la percentuale di errore dei migliori medici di quell'ospedale dell'epoca e che quindi erano migliori delle macchine perché facevano un errore solo 3 o 4 volte su 100 la terza barretta quella che ci dice l'errore allo 0,5% è la percentuale di errore di questi stessi medici aiutati da quei sistemi di intelligenza artificiale quindi mettendo insieme le intelligenze complementari e le capacità complementari dei medici e dei sistemi di intelligenza artificiale l'errore praticamente andava via 0,5% quindi per farvi capire che in questo studio ma anche in tante altre situazioni l'idea di mettere insieme le complementarietà di mettere insieme quello che noi siamo capaci di fare con quello che le macchine sono capaci di fare è quella vincente allora intanto è chiaro, penso a molti di voi che noi usiamo l'intelligenza artificiale in quasi ogni cosa che facciamo durante la nostra vita e tutti i giorni quindi non si parla di una disciplina fantascientifica che forse in futuro arriverà eccetera ma sono tecniche che noi usiamo tutti i giorni qui vi faccio alcuni esempi per esempio quello in alto a sinistra quando usiamo una carta di credito tutte le volte che usiamo c'è un metodo di intelligenza artificiale che cerca di capire se quella transazione che vogliamo fare con la carta di credito è fraudolenta oppure no e che nel caso pensa che sia fraudolenta avverte la banca che poi avverte noi eccetera secondo esempio è subito sotto è Siri o qualunque sistema con cui noi che ci permette di interagire attraverso i nostri comandi vocali con i dispositivi il telefonino per fare le ricerche su web per usare certe app chiedere informazioni sul tempo e qualunque cosa quindi comandi vocali quello ancora sotto Amazon che ci dà delle raccomandazioni se compriamo delle cose online ci vengono fornite raccomandazioni per nuove cose online da comprare simili a quelle che abbiamo capito che ci piacciono quindi raccomandazioni online poi c'è tutta una serie di robot lì sotto c'è un robot quello tondo quello che pulisce in terra nella nostra casa oppure c'è il robot quello in basso a sinistra che è uno dei due robot che sono andati su Marte che quasi in una situazione di al volte di semi autonomia hanno viaggiato su Marte e raccolto materiale per fare test eccetera e che hanno funzionato molto più a lungo di quanto era la loro vita diciamo prevista oppure lì nel mezzo vedete ci sono tanti robot che automatizzano il funzionamento dei grandi magazzini che servono per smistare le merci queste in molti casi sono automatizzate dai robot oppure qui dove vedete quel viso con la cosa verde intorno ogni volta che noi facciamo una foto vi sarete accordi che ci viene fuori una specie di quadratino intorno perché lì c'è un sistema intelligenza artificiale che riconosce che quello è un viso e questa è una tipica cosa che sa fare l'intelligenza artificiale sulla destra in basso sono le macchine a guida autonoma le vedremo un po' meglio un po' più dopo ma sono un concentrato di intelligenza artificiale sia in realtà questa è una foto non di macchina a guida autonoma ma di guida assistiva che ormai è presente in tantissime macchine di nuova generazione nelle auto che ci aiutano a capire quando non andiamo dritti nella nostra direzione quando siamo troppo vicini ad un'altra macchina o ad un altro oggetto eccetera poi in alto o in mezzo vedete varie simboli di app che noi usiamo anche sul nostro telefonino o dei social media questi sono veramente imbevuti di intelligenza artificiale che gli permette di capire meglio quali sono le nostre preferenze per poi darci cose che seguano le nostre preferenze e questo perché? perché chiaramente più cose ci danno che seguono le nostre preferenze più noi usiamo i social media perché abbiamo cose che ci piacciono ma anche perché appunto riescono a capire come inserire dei annunci pubblicitari personalizzati che quindi hanno un'alta probabilità di essere insomma benvenuti da noi nel senso che poi potremmo cliccarci sopra, seguire, comprare qualcosa eccetera sotto nel mezzo vedete un navigatore di un'auto oppure che possiamo usare sul nostro telefonino Google Maps o qualcosa e quello anche è un oggetto che ha un metodo per calcolare la strada migliore per andare da dove siamo fino a dove dobbiamo andare che è tipico dell'intelligenza artificiale in tutti i libri di testo questo è una delle prime tecniche di intelligenza artificiale perché potete capire che per andare da un posto a un altro ce ne saranno tantissime di strade e in pochissimo tempo l'algoritmo, il metodo di intelligenza artificiale sa capire qual è la strada migliore e quindi non è una cosa, è una cosa apparentemente per noi è semplice è ovvia quello che ci dà Google Maps eccetera ma in realtà non è una cosa semplice e studiosi hanno studiato per anni fino alla fine capire qual era il modo migliore da fare in alto ci sono anche i motori di ricerca come Bing e Google che usiamo spesso che ci aiutano a trovare informazione sul web e anche cose che ci aiutano a eliminare dai nostri mail che ci arrivano le mail che sono non desiderate o comunque non rilevanti a noi e infine lì nel mezzo ho messo anche il sistema di traduzione che poi vedremo meglio dopo il sistema di traduzione di Google online ce ne sono tanti che adesso hanno raggiunto una qualità molto alta per tradurre da una lingua a un'altra quindi questi sono tutti esempi non ne ho messi tutti quelli che potevo pensare non c'entravano tutti ma quindi potete capire che dal momento in cui voi vi alzate la mattina fino a quando andate a letto veramente tutte le cose che fate è difficile trovarne alcune che non sono collegate a dei sistemi di intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale non serve solo a noi come individui ma serve anche alle aziende per poter ottimizzare e fare meglio quello che è il loro scopo per esempio per predire dei trend futuri quindi per esempio per stimare la richiesta di prodotti sulla base delle richieste negli anni passati oppure per usare la visione automatica di cui hanno la capacità le macchine per vedere dei difetti in certi prodotti che loro mettono sul mercato oppure per digitalizzare l'azienda in modo automatico prendendo dei documenti, dei testi scritti e usando i sistemi di intelligenza artificiale per prendere questo documento interpretare il testo e capire cosa dice per poi quindi automatizzare tutti i documenti oppure appunto suggerimenti automatici come quelli di Amazon dare ai propri clienti suggerimenti per prodotti simili a quelli che loro piacciono e anche in generale per ottimizzare le loro operazioni cioè per fare le stesse cose che facevano prima ma non solo nuove cose ma anche le stesse cose ma in modo più ottimizzato e più efficiente e la cosa un po' interessante dell'intelligenza artificiale è che non ha bisogno di grandissimi investimenti per poter, una volta che uno capisce come usarla quindi a differenza di altre tecnologie è usabile anche non solo da grandi corporation ma anche da piccole aziende nelle loro attività allora, come siamo arrivate fino a questo momento? qual è la storia dell'intelligenza artificiale? il primo momento in cui questo termine intelligenza artificiale è stato usato è nel 1956 quando un gruppo di studiosi a quell'epoca matematici perché non c'era l'informatica si sono riuniti per un'estate in questo posto, Dartmouth, in America per un progetto estivo in cui lo scopo del progetto era quello proprio di creare queste macchine che potessero fare tutte le cose che gli uomini sapevano fare a quell'epoca appunto erano soprattutto matematici quindi una delle cose su cui si volevano focalizzare erano possono le macchine provare dei teoremi matematici come li hanno saputi provare degli uomini oppure anche nuovi teoremi matematici e poi tante altre cose da lì queste sono cinque delle persone con una fotografia di 50 anni dopo di quel momento che sono appunto i pionieri dell'intelligenza artificiale perché hanno partecipato a questo primo progetto focalizzato proprio su questa disciplina e su capire qual era lo scopo che la disciplina doveva darsi la persona che ha ideato questo termine intelligenza artificiale è John McCarthy questo signore con la camicia rossa che è appunto uno dei pionieri ha vissuto e ha insegnato a Stanford per tantissimi anni fino alla sua morte in quell'epoca erano molto molto ottimisti per esempio alcuni delle persone appunto dei pionieri che avevano partecipato a questo incontro hanno detto queste cose qui per esempio nel 58 nel 65 pensavano che le macchine potessero vincere a scacchi contro gli uomini già nel 10 anni dopo nel 68 perché gli scacchi? perché si riteneva si ritiene tuttora che c'è bisogno di un alto livello di intelligenza di un umano per poter giocare bene a scacchi e quindi era un modo per confrontarsi con l'intelligenza umana poi anche Simon un altro pioniere diceva in 20 anni questo nel 65 l'ha detto i computer saranno in grado di svolgere ogni attività che gli uomini sono in grado di fare e chiaramente questo non è successo né l'una né l'altra di queste previsioni hanno avuto luogo e però sono rimaste e sono rimaste nella mente di questi studiosi dell'epoca e quindi per esempio sia gli scacchi e sia questa intelligenza artificiale forte e generale come è lo scopo della seconda previsione è ancora nella mente e negli scopi della disciplina scientifica in realtà tuttora se ci sono degli questionari che vengono passati tra gli studiosi intelligenza artificiale per dire quando sarà l'intelligenza artificiale in grado di fare tutto quello è fatto tuttora nel corso degli anni la previsione è sempre 20 anni quindi la previsione 20 anni è giusta però va avanti nel corso degli anni eppure oggi insomma con varie variazioni abbastanza grandi deviazioni ma sempre si parla di tra 20 anni sarà in grado così ok qui vi faccio alcuni esempi di questa storia dell'intelligenza artificiale che ha avuto tanti estati e inverni cosa sono queste cose gli estati dell'intelligenza artificiale sono periodi in cui c'erano grande speranze grande promesse e grandi investimenti quindi che però poi a volte queste speranze queste promesse erano un po' gonfiate e quindi poi quando le persone si rendevano conto che invece le cose non erano effettivamente così semplici come venivano descritte allora erano seguite da degli inverni dell'intelligenza artificiale in cui non c'erano finanziamenti non c'erano posti di lavoro per persone che si occupavano di queste cose non era non si riempivano certamente posti del genere quando uno parlava di intelligenza artificiale e quindi nell'arco degli decenni ce ne sono state tante di questi estate e inverni ma nel corso di questi più di 60 anni quindi dal 1956 gli studiosi hanno continuato a lavorare a volte con più fondi a volte con meno fondi su questa disciplina e hanno aumentato le sue capacità in modo diciamo incrementale durante gli anni chiaramente adesso si è una esplosione tale che le capacità aumentano in modo molto più veloce solo per solo anche solo per il fatto che molte molte più persone lavorano su queste cose ma una cosa che è stata costante negli anni è stata quella appunto di usare questo ambiente dei giochi che siano gli scacchi o ciasi per paragonare le capacità dell'intelligenza artificiale con quelle delle persone quindi vi ricordate la previsione che vi ho detto prima sul gioco degli scacchi beh quella non è stata soddisfatta perché per arrivare a un computer che vincesse contro i migliori campioni umani a scacchi abbiamo dovuto aspettare il 1997 quando il programma chiamato Deep Blue dell'IBM ha vinto contro Gary Gasparov a questa partita a scacchi molto famosa molto eclatante e anche molto scioccante per Gary Gasparov sicuramente ma anche per molte altre persone perché appunto come vi ho detto si associa agli scacchi a saper giocare bene agli scacchi un alto livello dell'intelligenza per gli umani e quindi come mai un computer poteva vincere a scacchi addirittura contro il campione mondiale degli scacchi in realtà non è il computer in quella particolare situazione non aveva avuto bisogno di grandissima intelligenza qualunque cosa questo voglia dire ma solo di una grandissima potenza di calcolo quindi questo computer che vedete qui accanto è un computer che era velocissimo e sapeva quindi analizzare le mosse predire le mosse dell'avversario in tante iterazioni molte più di quanto un cervello umano anche quello di Gary Gasparov potesse fare e questo gli ha permesso appunto di individuare le mosse migliori e quindi di vincere contro questa persona che era la persona che sapeva giocare meglio a scacchi all'epoca altri giochi che sono stati usati per confrontare l'intelligenza artificiale con le persone sono per esempio dei giochi per esempio questo gioco televisivo che si chiama Geopardy che c'è in America che è un gioco televisivo dove un conduttore fa delle domande a delle persone su qualunque argomento e le persone devono rispondere bene chi risponde bene prima vince i soldi accumula soldi e poi nel corso della trasmissione c'è anche uno deve anche scommettere una certa quantità dei soldi che ha accumulato su quanto saprà rispondere bene nelle prossime domande e quindi ci sono tutti questi aspetti sia di comprensione di tanti testi su vari argomenti della conoscenza umana sia di comprensione della domanda che fa il conduttore per poterla poi rispondere sia di ragionamento con le probabilità su quanto è probabile che io riesca a rispondere bene alla prossima domanda ecco tutti questi aspetti rendevano questo gioco molto più complesso del gioco degli scacchi che invece aveva a che fare con delle regole ben precise e informazioni molto facilmente rappresentabili ecco l'IBM anche in questo caso è riuscita nel 2011 a vincere contro i migliori capioni umani del tempo dimostrando che questo sistema dell'intelligenza artificiale sapeva fare tutte queste cose comprendere abbastanza bene il linguaggio naturale le varie aree della conoscenza umana quello che gli diceva il conduttore e tutto chiaramente in modo più veloce delle persone perché c'era anche l'aspetto della velocità di quanto uno quando uno preme il bottone per rispondere eccetera il terzo uso dei giochi che vi voglio mostrare è questo del 2016 gli scacchi sono un gioco complesso ma il Go che è un gioco fatto sempre su una scacchiera tipo gli scacchi ma con delle pedine bianche e nere è ancora più complesso per due motivi perché intanto le configurazioni della scacchiera cioè come possono essere posizionate tutte queste pedine bianche e nere sono molte di più delle combinazioni della scacchiera e degli scacchi e poi data una certa configurazione della scacchiera capire chi sta vincendo e chi sta perdendo è molto più difficile che negli scacchi quindi queste due cose facevano sì che le persone anche gli esperti pensassero che non si potevano costruire macchine che potessero vincere contro i campioni umani a Go e invece questo è successo nel 2016 con questo programma chiamato AlphaGo dell'azienda DeepMind è un'azienda collegata a Google e ad Alphabet che nel 2016 è riuscito appunto a vincere contro il migliore campione umano l'Isedol anche questa volta con grande scalpore perché questa volta non poteva bastare la potenza computazionale la velocità del computer come invece poteva essere negli scacchi nel 1997 e quindi c'erano altre cose che dovevano esserci nel metodo usato che permettevano a queste macchine di comportarsi così bene l'ultimo esempio è di un altro gioco il poker il poker è un gioco anche molto complicato è diverso dagli altri che vi ho mostrato perché mentre gli altri giochi sono giochi a informazione completa cioè tutti vedono la scacchiera e cosa c'è sulla scacchiera il poker e i giochi di carte no io vedo le mie carte ma non vedo quelle degli altri quindi devo ragionare immaginando probabilisticamente su cosa avranno loro capire su questo ragionamento probabilistico cos'è la migliore mossa che posso fare eccetera bene anche in questo caso nel 2017 questo programma chiamato Libratus della Carnegie Mellon University è riuscito a vincere o meglio a vincere a vincere molte più soldi di tutti gli altri campioni umani con cui si è paragonata durante una sfida durata due settimane perché chiaramente mentre per gli altri giochi uno può avere una partita per il gioco del poker non lo può avere perché magari in quella partita la macchina ha avuto delle carte favorevoli e quindi bisogna fare tantissime partite per poter riuscire alla fine a dire sì in effetti la macchina è riuscita a fare meglio degli uomini quindi i giochi sono stati usati sempre nel corso dell'intelligenza riviciale per porsi delle sfide e per poi avanzare le capacità di questa disciplina però bisogna stare molto attenti nell'usario giochi per due motivi primo perché i giochi sembrano far capire che quindi l'idea è della competizione fra l'uomo e la macchina cosa che invece abbiamo capito che non è l'idea migliore per ottenere i risultati migliori l'idea migliore è quella della collaborazione e secondo perché i giochi potrebbero dare l'idea che siccome sa fare così bene a giocare a scacchi saprà fare bene tante altre cose nella vita reale ma la vita reale è molto più complessa di qualunque di questi giochi e quindi anche quando per esempio anche l'IBM che aveva fatto il programma Geopardy o il programma Watson che giocava Geopardy o Deep Blue che giocava Go a scacchi anche per l'IBM non è stato semplice capire come trasformare questi programmi che funzionavano così bene per i giochi in cose che fossero utili nella vita reale quindi bisogna prendere insomma con le dovute cautele un capitolo a parte sulle auto a guida autonoma le auto a guida autonoma diciamo abbiamo detto che la guida assistita dei sistemi di guida assistita ci sono in tantissime auto in circolazione ma le auto a guida autonoma ce ne sono praticamente quasi nessuna in giro però nascono tutte da una sfida iniziale che in America si era posta un'agenzia l'agenzia che si chiama DARPA e che aveva presentato una sfida ai ricercatori di robotica dicendo vediamo se riuscite a costruire una macchina che da sola in modo autonomo sappia attraversare una zona desertica dell'America senza nessun intervento che la prima che sappia arrivare in fondo vincerà la sfida e nel 2005 questa sfida è stata vinta da questa auto che si chiama Stanley e da lì è iniziata tutta la diciamo i fondi e tutte le iniziative e gli sforzi per costruire delle macchine a guida autonoma che hanno portato poi a grandi aziende a dedicare tantissimi fondi tuttora alla costruzione di queste macchine sia Google con la sua azienda che prima era Google ma adesso è diventata Vaimon quindi dedicata alla costruzione di macchine a guida autonoma come questa qui e sia Tesla e sia Toyota e sia Nvidia sia Uber eccetera quindi lo sforzo per creare queste macchine che che arriveranno forse tra tantissimi anni non necessariamente vicino ma che nel frattempo permettono di costruire tanti metodi che aiutano le persone gli umani a guidare appunto questa guida assistita che c'è già e tutti questi sforzi sulla guida assistita vengono fuori proprio anche da questi grandi investimenti che hanno come scopo a lungo termine creare queste macchine a guida autonoma perché si vuole creare queste macchine a guida autonoma che sono un vero concentrato di intelligenza artificiale perché vi potete immaginare quando noi guidiamo magari non ce ne rendiamo conto perché è una cosa che facciamo in automatico però noi dobbiamo essere in grado di vedere dove siamo vedere la strada quali sono le altre macchine se ci sono dei pedoni che attraversano o altri ostacoli capire prevedere quello che faranno gli altri come si muoveranno nel futuro capire la strada migliore per andare arrivare a un certo posto ma questa è la cosa più meno complicata e quindi c'è tutto un concentrato di cose che usiamo la nostra visione usiamo la nostra intuizione usiamo la nostra capacità di prevedere quelle che facciano gli altri quindi immaginate cosa vorrebbe dire voler mettere tutto questo dentro un robot come è una macchina a guida autonoma allora voglio un po' farvi capire come fa questa disciplina scientifica questa tecnologia a fare tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso allora di tecniche ce ne sono tantissime all'interno dell'intelligenza artificiale se voi andate a vedere un qualunque convegno scientifico sull'intelligenza artificiale vedrete una lunga lista di tecniche con nomi molto specifici e ognuna è diversa dall'altra e serve per scopi diversi ma in realtà ci sono due approcci fondamentali quasi paralleli nel corso dei decenni per poter dare alle macchine questa capacità della razionalità o dell'intelligenza allora come fareste voi per permettere a un'altra persona di capire come risolvere un problema beh i metodi sono essenzialmente due e questi sono usati dagli esperti dell'intelligenza artificiale il primo metodo dice va bene non sai come risolvere un problema non importa te lo dico io quindi lo studio io il problema capisco qual è il metodo migliore i passi migliori per risolverlo e poi te lo dico questi passi migliori te li dico e questa è quella che io chiamo qui il ragionamento logico cioè gli esperti hanno capito come risolvere i problemi e poi hanno codificato questi metodi nei sistemi dell'intelligenza artificiale e questo funziona bene in certi casi ma in altri casi no e allora qual è il secondo approccio secondo approccio dice se non riesco a dirti esattamente cosa fare in certi risolvere un certo problema l'altra cosa che posso fare è darti tantissimi esempi di soluzioni di quel problema e poi spero che tu riesca a generalizzare da quegli esempi che ti ho dato e che quindi sappia risolvere il problema anche quando ti trovi di fronte a situazioni che non sono gli esempi che ti ho dato e questi sono i due approcci principali che la disciplina dell'intelligenza artificiale ha usato nel corso degli anni allora vediamo un po' in dettaglio il primo quindi il primo vi ho detto è molto semplice come la ricetta di un dolce quindi voi avete l'input che sono gli ingredienti l'output e il dolce e poi ci sono tutti i passi prima fai questo sbatti le uova metti la farina metti lo zucchero eccetera tutti i passi uno dopo l'altro quindi se vogliamo che una macchina sappia risolvere qualcosa dobbiamo capire qual è l'input qual è l'output e quali sono i passi e poi glielo diciamo in qualche linguaggio di programmazione come abbiamo detto prima qui a sinistra vedete l'esempio di un di un sequenza di passi per esempio per fare il tè quindi dice inizia poi metti l'acqua sul fuoco poi guarda se bolle se non bolle attendi un altro minuto se invece bolle allora verserà nella tazza aggiungi il tè è finito quindi io ho scritto tutti questi passi e adesso nel caso della macchina non gli chiedo di farmi il tè però insomma qualunque altra cosa fosse io lo dico la macchina tramite un linguaggio di programmazione e la macchina esegue i miei passi quindi lì non è che deve metterci tanta intelligenza deve solo seguire quello che io ho capito è il metodo giusto per risolvere quel problema questo algoritmo che vedete qua non ve lo leggo non importa ma quello è l'algoritmo che usano tutti i nostri navigatori per capire come vi ho detto prima qual è la strada migliore per andare da dove siamo fino a dove vogliamo arrivare di strade ce ne sono tantissime e lui molto velocemente riesce a capirlo tramite questo algoritmo quindi questo è un esempio di questo primo approccio dell'intelligenza artificiale quello del ragionamento logico cioè i ricercatori in quel caso hanno capito qual era il metodo migliore per risolvere quel problema che si presentava sempre in lo stesso modo l'input era dove siamo dove vogliamo arrivare e la mappa di tutte le strade e dato questo input l'output doveva essere la strada migliore per andare da qui a qui siccome non c'è incertezza sull'input e l'output io dato quell'input e l'output so risolvere il problema gliel'ho detto alla macchina tramite questo algoritmo scritto in qualche linguaggio e la macchina con tutti i navigatori Google Maps eccetera mi sa portare attraverso quella strada quindi un sistema che funziona bene è sempre corretto mi assicura che il risultato è corretto ma non è flessibile se per caso l'input è un po' diverso la macchina non sa più cosa fare quindi non è flessibile non sa affrontare l'incertezza della vita di tutti i giorni e inoltre gli esseri umani gli devono dire cosa fare la macchina non lo inventa da solo il secondo metodo è quello che si chiama dell'apprendimento automatico quello basato su esempi che vi ho detto prima allora qui cos'è questo metodo allora abbiamo detto io gli do tanti esempi e poi gli do un metodo che dovrebbe permettere alla macchina di generalizzare a questi esempi allora questa immagine che vi ho messo qui è l'immagine di una con tutti questi pallini queste connessioni è l'immagine di una rete neurale che è un sistema che viene usato nel campo dell'apprendimento automatico per appunto far capire alle macchine come risolvere un problema sulla base di esempi vi ho messo la figura per farvi capire che è lontanamente ispirata a come è fatto il nostro cervello nel senso che quelle palline dovrebbero essere tipo i nostri neuroni e quelle connessioni dovrebbero essere tipo le connessioni tra i nostri neuroni ma è molto lontanamente ispirata l'input lo do su quelle palline che stanno sulla sinistra e l'output è quello che viene fuori sulla destra allora supponiamo di dover creare una macchina che sa prendere un'immagine e riconoscere che animale c'è l'immagine di un animale e riconoscere che animale c'è in quell'immagine quindi quelli sulla sinistra sono tutti esempi che io gli do quindi per ogni immagine io gli dico che animale c'è quindi nella prima sinistra gli dico c'è un cane poi c'è un cane poi c'è un gatto eccetera eccetera quindi questi sono gli esempi che io do alla macchina immagini più cosa c'è in quell'immagine allora io a un certo punto questa rete neurale gli do questi esempi e per ogni esempio che io gli do la rete neurale cerca di auto riposizionarsi con tutte queste connessioni al suo interno in modo da seguire questi esempi che io gli ho dato ok quando io gli do una cosa in input per esempio quella immagine di quel cavallo no e vedo e lei vede che per esempio seleziona non il cavallo ma seleziona la scimmia come qua quindi fa un errore allora lei si accorge che è un errore perché io gli avevo dato nell'esempio che quello doveva essere un cavallo e quindi si auto migliora cercando di seguire questi esempi che gli ho dato io e questo lo faccio per tantissime volte con tantissimi milioni di esempi finché la macchina testata su altri esempi che io non gli ho dato si comporta abbastanza bene e quindi adesso è pronta per essere rilasciata e quindi per poterla usare per riconoscere in questo caso sulle immagini che l'animale ha quindi in questo caso la macchina è molto flessibile perché io non gli dico esattamente come fare a riconoscere un animale in un'immagine gli do gli esempi e poi la macchina si ingegna a lei cerca di capire generalizzare da questi esempi quindi è molto flessibile può anche funzionare su input che io non gli ho mai mostrato prima però può anche commettere degli errori perché è una macchina che ragiona probabilisticamente dice beh la maggior parte delle volte quando vedevo una cosa così mi avevi detto che era un cavallo e quindi penso che sia un cavallo ma è un ragionamento probabilistico quindi c'ha queste due cose che può fare degli errori che può essere una cosa positiva o negativa ma poi vedremo e che ha bisogno di tantissimi esempi per funzionare bene e che a volte non li troviamo ma allora uno si domanda va bene ho capito che questo metodo a volte è quello giusto da usare e infatti è il metodo che negli ultimi anni ha avuto più successo per dare alle macchine le capacità percettive cioè per capire le immagini capire il testo eccetera cosa che prima non avevano o anche per i comandi vocali vi ricorderete alcuni di voi come erano i comandi vocali dieci anni fa noi parlavamo continuavano a risponderci che non c'entrava niente la risposta con quello che dicevamo eccetera quindi ultimamente grazie a queste macchine a questi metodi di apprendimento automatico tutte queste cose hanno una qualità molto più alta ma dove si trovano tutti questi esempi dove le trova la macchina tutti questi esempi beh li trova perché glieli forniamo noi perché negli ultimi anni noi abbiamo in modo esponenziale aumentato la quantità di dati che noi mettiamo online sui social media su facebook su twitter sul testo le immagini i like eccetera quindi tutte queste informazioni quando noi dieci anni fa facevamo una foto la foto era nella nostra macchina fotografica non era mica immediatamente online adesso è immediatamente online quindi e gli utenti di questi social media e in generale dell'internet crescono in modo velocissimo qui per esempio c'è la crescita degli utenti di facebook che adesso ha più di due miliardi di utenti mensili attivi rispetto al duemila non so quattro che non c'era nessuno quasi quindi i dati glieli diamo noi ma la grande quantità di dati che è necessaria non è sufficiente perché oltre ad avere tantissimi dati per dare come esempio a queste macchine sarebbe inutile avere tutti questi dati se non abbiamo i computer abbastanza potenti per gestirli questi dati quindi è importante perché le cose adesso funzionano perché abbiamo entrambe queste cose tantissimi dati ma anche computer molto molto veloci e la capacità di questi computer di essere veloci anche questa come i dati è cresciuta esponenzialmente nel tempo qui c'è un grafico che fa vedere che negli anni dal 1970 fino a anche abbastanza anni fa ma è continuata è cresciuta in modo esponziale con una legge chiamata legge di Moore perché era stata fatta nel 65 ideata pensata nel 65 da Gordon Moore uno dei fondatori dell'Intel un'azienda di chip che aveva notato che la quantità di transistor che lui riesceva a mettere in un unico chip raddoppiava ogni anno quindi vuol dire che il computer diventava doppio più veloce ogni anno e poi il doppio l'anno dopo e il doppio l'anno dopo e questa è una legge che si chiama una legge di una crescita esponenziale cioè velocissima per farvi capire un po' meglio cosa vuol dire una crescita esponenziale c'è una leggenda che spesso si usa per far capire questa cosa che l'inventore degli scacchi quando ha presentato questo gioco al suo sovrano dell'epoca gli ha chiesto come ricompensa dei chicchi di riso e il sovrano gli ha detto va bene quanti chicchi di riso vuoi allora lui gli ha portato gli ha mostrato la scacchiera con 64 caselle degli scacchi e gli ha detto io voglio che tu metta un chicco di riso sulla prima casella poi due sulla seconda quindi il doppio poi quattro sulla terza quindi il doppio della seconda poi otto sulla prossima poi ogni volta il doppio e finché non riempi tutte le 64 caselle e poi questa è la quantità di riso che voglio che te mi dai il sovrano ha detto va bene quanto riso ci potrà stare tutte queste 54 caselle anche se raddoppio ogni volta bene lui chiaramente questo sovrano non sapeva della crescita esponenziale che invece solo in 64 caselle porta ad avere alla fine questo numero esorbitante di chicchi nell'ultima casella per farvi capire anche un po' più in modo pratico cosa vuol dire crescita esponenziale a cui noi non siamo abituati noi siamo abituati a una crescita lineare quindi quando noi camminiamo se il nostro passo sponiamo ogni passo è un metro dopo 100 passi abbiamo fatto 100 metri quindi crescita lineare crescita esponenziale vorrebbe dire che il nostro primo passo è lungo un metro il secondo due metri poi il prossimo quattro metri poi il prossimo otto metri ogni volta raddoppia e contate che se usiamo questa passeggiata esponenziale in un certo senso e cerchiamo di usarla per arrivare da qui alla luna in soli 29 passi di questi passi esponenziali noi arriviamo alla luna per farvi capire quanto velocemente cresce invece nella crescita lineare dopo 29 passi noi avremmo fatto solo 29 metri quindi è una crescita fondamentalmente diversa da quelle a cui noi siamo abituati e inoltre ha una caratteristica che anche spiazza un po' cioè che questa crescita esponenziale uno il fatto che cresca così velocemente lo vede solo in fondo infatti se voi fate tutti questi 29 passi in realtà dopo il 28esimo passo che vi sembra di essere quindi quasi alla fine vi manca solo un passo ma siete solo a metà della distanza tra qui e la luna perché è l'ultimo passo che poi raddoppia quindi diciamo questa crescita esponenziale che è così difficile da portare nella vita di tutti i giorni però è quella che ha permesso sia il computer di essere così tanto veloci e sia i dati di essere sempre così più presenti e queste due cose insieme hanno portato questo secondo approccio dell'intelligenza artificiale quello dell'apprendimento automatico a avere così tanto successo allora vediamo cosa vuol dire avere successo per esempio sulla interpretazione delle immagini questo approccio è l'unico da poter usare che dà grandi qualità per esempio queste immagini che vedete la prima in alto dice gruppo di giovani che giocano a frisbee la seconda dice bambina in vestito rosa che salta la terza dice donna che porta un casco di banane queste diciture queste descrizioni delle immagini non le ha scritte una persona le ha scritte a un sistema di intelligenza artificiale per farvi capire quanto adesso i sistemi di intelligenza artificiale riescono bene a interpretare cosa c'è in un'immagine notate che nella prima immagine il frismi non è altro che una riga bianca molto sottile eppure la macchina è riuscita a capire quali sono gli oggetti in questa immagine e che relazione c'è fra gli oggetti quindi una grande capacità di interpretare le immagini e questo grafico che c'è qua sotto vi fa vedere che già nel già nel 2005 l'interpretazione delle immagini delle macchine è migliore di quella degli umani cioè di solito noi sbagliamo il 5% delle volte le macchine già nel 2005 avevano un errore migliore del 5% quindi grandi capacità di interpretare queste immagini però ricordiamoci che questi metodi questo dell'apprendimento automatico fa anche degli errori e questo è il prezzo da pagare per avere questa grande flessibilità e dobbiamo stare attenti a non pensare che gli errori siano simili a quelli che faremmo noi perché le macchine non vedono le immagini come le vediamo noi per le macchine un'immagine è solo una sequenza di pixel ognuna con una certa combinazione di colori quindi gli errori che fanno sono molto diversi e ci possono sembrare errori banali ma che le macchine fanno perché hanno un modo di ragionare diverso allora qui ve ne mostro alcuni per esempio qui vedete questa immagine la prima riga sopra l'immagine sulla sinistra è un panda vediamo che è un panda e la macchina effettivamente lo riconosce come un panda e ogni volta che la macchina interpreta un'immagine dà un certo livello di confidenza cioè di quanto è sicura di quella interpretazione e lì lo interpreta vedete con 57,7% quindi abbastanza sicura che quello è un panda se noi modifichiamo anche solo pochi pixel di quella immagine e questo è fatto mescolandola con quell'immagine nel mezzo che non vuol dire niente quindi da quella mescolare quelle due viene fuori quest'altra immagine sulla destra che noi la vediamo uguale perfettamente uguale a quella di prima ma la macchina invece non la vede uguale con i suoi occhi lì la macchina lo interpreta come un gibbone al 99% di confidenza quindi sbagliando clamorosamente e questo perché perché appunto bisogna capire bene che gli errori delle macchine non sono gli stessi dei nostri e che quindi è facile che le macchine facciano anche degli errori banali pur rimanendo il fatto che la quantità di errori è minore di quella che farebbe una persona la seconda immagine o meglio le quattro immagini che vedete lì in mezzo sono come quelle del panda cioè la prima è quella originale poi le altre sono tenute modificando qualche pixel e vedete che la macchina dice tutte cose stranissime che non c'entrano niente con lo struzzo quindi anche lì errori di quel tipo ma un po' per arrivare un po' più vicino alla possibile vita reale l'interpretazione dei segnali stradali perché chiaramente le macchine qui ad autonoma devono poter capire i segnali stradali e qui vedete le originali sono quelle da 80 e da 120 e leggermente modificate se vedete ci sono delle piccole cose diverse in quelli della riga sotto e la macchina le interpreta in modo completamente diverso quello da 80 chilometri orari lo interpreta come uno stop quello da 120 lo interpreta come 30 chilometri orari quindi vedete che è facile è facile ingannare le macchine pur ricordando che le macchine fanno meno errori degli uomini ma quindi è facile che le macchine abbiano errori invece che sono per noi assurdi come errori e per noi inaspettati che una macchina che sappia fare bene tante altre cose non sappia riconoscere quelli un'altra cosa che sanno fare oltre all'interpretazione delle immagini è quella che abbiamo detto dei comandi vocali che noi usiamo spessissimo in tante cose e qui vi fa vedere che anche nel caso dell'interpretazione del linguaggio naturale le macchine hanno raggiunto un livello di errore che è minore di quello degli umani e qui c'è la barra di quello degli umani e già nel 2017 con abbastanza dati di allenamento di questi sistemi di reti neurali la macchina fa meno errore però anche qui gli errori alcuni li fa e quindi anche qui possono essere errori importanti allora un esempio delle limitazioni delle macchine nell'interpretazione del linguaggio naturale è questa data da questa sfida che si chiama Winogra Schema Challenge cioè è una semplice frase che viene presentata alle macchine per essere interpretata nel modo giusto e l'interpretazione giusta deve semplicemente risolvere una semplice anafora che per noi è semplicissima per esempio prendete questa frase la scatola non entra nella valigia perché è troppo piccola oppure perché è troppo grande beh per noi è molto semplice capire cos'è troppo piccolo se è scritto troppo piccolo vuol dire che è la valigia che è troppo piccola non la scatola se è scritto troppo grande è la scatola che è troppo grande non la valigia quindi per noi è molto semplice risolvere chi è troppo piccolo chi è troppo grande ma per le macchine è difficilissimo i migliori sistemi i migliori team da tutto il mondo che hanno cercato di risolvere che tutti gli anni cercano di risolvere questa sfida hanno una percentuale di errore molto alta del 40% quindi qui vedete la percentuale di accuratezza del migliore cos'è qui 58,33% qui 60% quindi veramente è molto difficile e questo ci fa capire come mai noi abbiamo tanti sistemi di comandi vocali dove noi facciamo una domanda e ci viene data una risposta spesso corretta ma non c'è nessun sistema ancora in grado di gestire un dialogo tra le macchine e le persone perché gestire un dialogo richiede per esempio risolvere cose di questo tipo nel corso dei vari passi del dialogo e le macchine ancora non lo sanno fare un'altra cosa diciamo ci sono tante altre cose che permettono che non permettono ancora alle macchine di comportarsi di avere capacità più avanzate anche rispetto a questi errori che vi ho detto e cosa manca? Mancano soprattutto tante cose ma mancano soprattutto prima la capacità per le macchine del ragionamento del senso comune cosa vuol dire? Di capire come funziona il mondo intorno a noi quando noi parliamo con un altro essere umano tante cose non le diciamo perché condividiamo il sapere come funziona un mondo se noi prendiamo un bicchiere pieno d'acqua e lo giriamo non dobbiamo essere degli esperti di fisica per sapere che se lo giriamo l'acqua va giù quindi ci sono tante cose che noi diamo per ovvio assunto e che invece le macchine purtroppo non hanno e ancora non si è capito come fare a inserire tutte queste cose dentro una macchina seconda cosa è l'apprendimento come quello che vi ho fatto vedere prima ma con pochi esempi in alcuni casi purtroppo non abbiamo tutti questi esempi a disposizione milioni di esempi non ce li abbiamo per esempio se vogliamo che la macchina ci aiuti a risolvere un problema nuovo se è un problema nuovo noi non ce l'abbiamo tanti esempi di come si risolve quel problema e quindi c'è tantissimo sforzo nella comunità scientifica per capire come fare a far funzionare bene le macchine anche quando di esempi ce ne sono pochi che poi è molto simile un po' a quello che facciamo noi perché noi non abbiamo bisogno di milioni di esempi per riconoscere se in un'immagine c'è un cane o un gatto o un cavallo noi abbiamo bisogno di pochi esempi ma perché? perché noi dalle nostre esperienze sappiamo tirare fuori dei concetti generali che poi riusiamo in tante altre situazioni le macchine ancora questo non lo sanno fare quindi la capacità di partire dagli esempi e arrivare a dei concetti generali un'altra cosa importante è che le macchine ancora non sanno distinguere tra correlazione e causalità cioè quando le macchine vedono negli esempi certe situazioni che dicono ah bene allora vedo che quando c'è questa immagine vuol dire che devo rispondere così e quest'altra vuol dire che devo rispondere così ma non riescono a capire cos'è che causa cosa perché quello è un cavallo qual è la parte dell'immagine che mi causa questa risposta e per capire la differenza tra correlazione su cui le macchine sono molto esperte molto più di noi e causalità che invece ancora non ce l'hanno c'è spesso mostrato questo grafico dove si fa vedere che nell'arco dei mesi dell'anno la quantità di vendita di gelati questa è una cosa fatta in Australia quindi ha a che fare con gli attacchi degli squali quindi la quantità di vendita di gelato cresce chiaramente a luglio è massima poi diminuisce eccetera e la quantità di attacchi di squali cresce esattamente nello stesso modo quindi c'è una grandissima correlazione tra queste due cose ma chiaramente non c'è nessuna causalità non è che il gelato causa l'attacco dello squalo o viceversa quindi le macchine sono in grado di capire la correlazione come questa ma non la causalità e noi facciamo un errore se le interpretiamo come darci informazioni di causalità allora visto che questi sistemi intelligenza artificiale sanno fare così tante cose ma un po' fanno degli errori però comunque meno degli umani eccetera eccetera ci dobbiamo preoccupare di questa tecnologia e perché lo chiedo perché leggerete tantissimi articoli dove invece dicono sì ci dobbiamo preoccupare che adesso arrivano i robot ci uccideranno tutti non so cose di questo tipo terminator eccetera e quindi la domanda è legittima ci dobbiamo preoccupare di questa tecnologia e ci sono effettivamente delle preoccupazioni legittime su cui tanti però stanno lavorando per poterle risolverle e qui ve ne listo alcune ma intanto prima di parlarvi di queste qui in dettaglio vi parlo della prima un po' più in dettaglio e poi le altre un po' meno la prima è che queste decisioni che prendono le macchine perché l'output di una macchina è una decisione decidere che quella immagine è un cavallo oppure no ma in generale decidere che quella richiesta di mutuo può essere accettata oppure no decidere che quella richiesta da un'assicurazione può essere accettata oppure no eccetera eccetera quindi le macchine prendono decisione oppure prendono danno delle suggerimenti di decisioni a qualche essere umano allora queste decisioni bisogna stare attenti agli esempi che gli diamo perché se gli diamo gli esempi un po' sbilanciati le decisioni potrebbero essere non imparziali potrebbero favorire un gruppo rispetto a un altro per esempio se io voglio costruire una macchina che decide appunto se una richiesta di prestito è accettabile oppure no e tutti gli esempi che gli do nello schema degli esempi che vi ho detto prima sono esempi dove richieste fatte da donne non so vengono accettate richieste fatte da uomini vengono rifiutate allora la macchina generalizzando da questi esempi cosa farà? ebbè capirà che c'è quella correlazione e quindi tutte le richieste fatte da donne le accetterà tutte le richieste fatte da uomini le rifiuterà ma non perché pensa ma perché negli esempi io non sono stata attenta a dargli una abbastanza diversificazione quindi le macchine potrebbero avere decisioni che creano basate su pregiudizio che creano cose di parzialità discriminazione perché io non sono stata attenta a come ho allenato quella macchina e chiaramente noi sappiamo che noi come esseri umani siamo pieni di pregiudizi quando prendiamo delle decisioni senza neanche saperlo qui c'è una persona che ha scritto questa cosa che è illegibile chiaramente ma solo per farvi vedere che ha scritto più di 180 tipi di bias cioè di pregiudizi che noi abbiamo quando prendiamo le nostre decisioni quindi è ovvio che non è che la macchina ha i pregiudizi perché è così si è svegliata la mattina e vuole avere i pregiudizi perché noi scriviamo il codice i programmi gli esempi per queste macchine e quindi se noi abbiamo tutti questi pregiudizi inconsci chiaramente è facile poterli trasmettere anche a queste macchine un esempio dove vi fa vedere quanto gli esempi che gli diamo influenzano le decisioni delle macchine è questo che vi mostro qui allora se voi andate su Google Translate quindi il sistema online che fa una tradizione da una lingua all'altra e scrivete la cosa sotto l'ho invertito ma la cosa sotto è da leggere per prima lui è un infermiere in italiano e chiedete di tradurlo per esempio io qui ho chiesto di tradurlo in turco e me l'ha tradotto in quella frase lì poi cosa ho fatto l'ho chiesto di nuovo l'ho chiesto al contrario ho rigirato lì c'è una freccetta che posso rigirare dal turco all'italiano e quindi è venuta fuori quella roba sopra quindi dal turco perché ho chiesto di tradurlo al turco perché traducendo al turco il turco non ha il maschile o il femminile nel soggetto della frase quindi traducendo nel turco ha perso se era un maschio o una femmina questo infermiere quindi poi nella secondo passo quando io gli ho chiesto di tradurre dal turco all'italiano lui doveva immaginare lui ho detto lui vedi già il pregiudizio la macchina il google translate doveva immaginare il sesso di questo infermiere perché non ce l'aveva nella frase e da dove l'ha tirato fuori questo immaginare il sesso dell'infermiere dagli esempi di training con cui è stata costruita quella macchina e siccome gli esempi di training evidentemente avevano molte più donne infermiere che uomini la traduzione la macchina ha detto è un'infermiera femminile quindi per farvi capire che se non stiamo attenti agli esempi la quantità di esempi è importante ma anche cosa ci mettiamo in questi esempi perché influenzano tantissimo le decisioni della macchina ok allora andiamo a vedere queste preoccupazioni la prima ne abbiamo già parlato bisogna stare attenti agli esempi perché altrimenti si possono fare discriminazioni la seconda è che queste macchine se devono andare aiutare le persone a fare il loro lavoro prendere le loro decisioni e se queste persone devono seguire dei principi etici e morali come noi seguiamo nella nostra vita prendiamo per esempio un medico che deve prendere le decisioni e il medico ha il suo codice deontologico da seguire ma qualunque altra professione ha un altro codice ebbene queste macchine devono essere coscienti di queste linee guida etiche e quindi bisogna inserirglielo dentro oltre a saper fare bene il loro lavoro riconoscere le immagini quello che è anche saperlo fare seguendo delle linee guida etiche che sono quelle appropriate per quelle particolari condizioni la terza cosa è l'idea della scatola nera cioè di dire ma queste macchine sì magari sono così brave a fare delle decisioni ma io vorrei che me le sappiano spiegare queste decisioni perché altrimenti ecco se fossi un medico e la macchina mi dice beh per quel paziente usa quella terapia non quell'altra beh ma un momento spiegami un po' perché primo perché lo voglio capire poi magari in seguito poterlo decidere anch'io e poi perché se non me lo spieghi io non sono sicura se voglio seguire così a scatola chiusa quello che mi dice una macchina quindi se non riusciamo a dare alla macchina la capacità di spiegare le proprie decisioni e questo è collegato al dare alla macchina le capacità di poter gestire informazioni di causalità perché la spiegazione non è altro qual è la causa di questa cosa allora a lungo andare non verranno usati più tanto quanto sarebbe bene usarli il sistema di intelligenza ufficiale perché non ci fideremo abbastanza se non ci sanno spiegare perché fanno certe cose e questo primo primo esempi questi tre sono appunto di proprietà che noi vogliamo che siano dentro la tecnologia quindi vogliamo che si sappia spiegare vogliamo che sia imparziale e vogliamo che sia alleneata ai nostri valori etici morali il secondo blocchetto invece è per quanto riguarda la governance le regole per chi regolamenta o regolamenterà questa tecnologia i dati che noi forniamo e che abbiamo detto sono molto utili perché servono le macchine per capire bene come risolvere i problemi e anche come risolverceli in modo personalizzato ma che fine fanno questi dati se sono dati nostri personali chi è che va chi è che li vede questi dati chi è che li usa ho controllo su questi dati quindi c'è tutto un aspetto sulla gestione dei dati che che diciamo è una cosa da regolamentare nel modo giusto e fortunatamente l'Europa è uno dei pochi posti al mondo che ha delle leggi ma anche molto stringenti su questa gestione dei dati personali con questa legge europea che si chiama GDPR General Data Protection Regulation che è già valida su tutta l'Europa da più di un anno che appunto dice beh siamo attenti se sono dei dati personali noi dobbiamo dare il consenso a come vengano usate e ci deve essere data spiegazione di come vengono usati per poi generare delle decisioni la seconda cosa è la responsabilità le macchine fanno errori ne fanno pochi ma un po' ne fanno ma quando li fanno a chi dobbiamo rivolgerci se quell'errore impatta negativamente su di noi se a noi la richiesta di prestito non è stata accettata ma non ci viene data nessuna spiegazione e voglio e alla fine viene fuori che invece la richiesta doveva essere accettata è solamente stato un errore della macchina a chi mi devo rivolgere a chi ha scritto il codice di quella macchina a chi mi ha dato la risposta a chi insomma in qualche modo le responsabilità devono ancora essere capite mentre le leggi sono abbastanza avanzate per quanto riguarda le responsabilità umane quando c'è di mezzo decisioni prese dalle macchine ancora non è chiaro il terzo blocchetto è le conseguenze sulla società che conseguenze ha l'uso così invasivo pervasivo di queste macchine dell'intelligenza artificiale intanto sull'interazione e già lo vediamo no? sull'interazione tra le persone invece che tra le persone e le macchine e poi anche sull'impatto sul mondo del lavoro ci sono tanti lavori che sono abbastanza ripetitivi che in futuro probabilmente le macchine sapranno farli meglio di noi dovremmo farli fare alle macchine perché li sanno fare meglio di noi oppure no perché pensiamo che invece anche se possono essere fatti dalle macchine devono continuare a essere fatti dalle persone e comunque anche se un lavoro non verrà fatto in totale meglio dalla macchina ma qualunque lavoro sarà modificato e tuttora è modificato perché dovremo imparare a lavorare insieme a queste macchine e quindi come sarà impattato questo mondo del lavoro come faremo a fare il retraining delle persone già nel mondo del lavoro o il training dei nuovi giovani per partecipare tutti quanti a questa rivoluzione del mondo del lavoro usando questi sistemi intelligenza artificiale e alla fine appunto è l'uso che se ne fa di queste tecniche anche assumendo che non abbiano errori anche assumendo che tutto vada bene come noi avevamo previsto ma ci sono delle applicazioni dove le macchine potrebbero fare il loro lavoro meglio di noi ma forse vogliamo pensare se vogliamo farglielo fare quel lavoro vogliamo che le macchine siano in grado di prendere decisioni relative alla vita o alla morte di una persona quindi sviluppare le armi autonome ci sono chi dice che è una cosa positiva perché così non mandiamo le persone a essere uccise ma mandiamo le macchine ma chi dice che è una cosa negativa cioè ci sono delle cose che non dovrebbero essere fatte da macchine per motivi etici morali eccetera quindi è tutta una discussione su l'uso che si fa di queste macchine ma chiaramente è l'uso non tanto la tecnologia perché per esempio la stessa tecnologia che serve per costruire i droni autonomi che possono andare in giro è la stessa tecnologia che serve in Africa a permettere di capire dove dare le gocce d'acqua per migliorare l'efficienza dell'agricoltura e quindi diciamo e l'usi ce ne sono tantissimi anche della stessa tecnologia e l'ultimo appunto è i sistemi di super sorveglianza questi sono già presenti in alcune zone per esempio in Cina ci sono dei sistemi ci sono tantissimi dovunque andate in Cina vedete tantissime videocamere che assorbono informazioni da tutto quello che le persone fanno e poi associano alle persone un'etichetta data da un numero che più è alto e più le persone vuol dire che sono dei buoni cittadini in certo senso ma più è basso e più le persone si vedono tirare via dei benefici delle servizi sociali delle possibilità e quindi vogliamo veramente che e quindi l'intelligenza ufficiale è capace di dare queste opportunità a chi vuole usarle ma vogliamo veramente che venga usata in questo modo oppure no e l'ultima è la superintelligenza e quella l'ho citata non perché io ci passo molto tempo su questa cosa ma perché sicuramente avrete letto questo termine in tanti articoli in giro e cioè quando le macchine diventeranno non si sa quando vent'anni cinquant'anni cento anni mille anni più intelligenti di noi su tutti i campi a che fine facciamo noi perdiamo il controllo siamo come gli scimpanzè verso noi oppure oppure semplicemente vogliamo non arrivarci a quella situazione cioè vogliamo arrivarci aumentando sempre di più le capacità delle macchine ma in collaborazione non sfingendo le macchine il più possibile e rimanendo separati e quindi possibilmente perdendo il controllo tutti questi argomenti sono argomenti che in effetti sono legittime preoccupazioni ma ci sono anche motivi di essere ottimisti perché ci sono tante persone esperti di tantissime discipline che si occupano proprio di risolverli e ci sono sia esperti in intelligenza artificiale che cercano soluzioni tecnologiche a questi problemi e sia gruppi multidisciplinari che mettono insieme esperti in intelligenza artificiale ma anche filosofi psicologi sociologi economisti esperti quindi di come la tecnologia va a impattare sulle persone e che mettono insieme tutta una serie di documenti di principi guida diritti dell'uomo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e che piano piano stanno cercando di diventare sempre più concretamente trovare delle soluzioni a questi problemi qui vi faccio delle immagini che poi ve ne dico solo di alcuni per farvi vedere che ci sono veramente tantissime iniziative in tutto il mondo in Europa molte ma anche in tutto il resto del mondo per capire qual è il modo migliore per aumentare le capacità di questa tecnologia ma allo stesso tempo pensare che noi siamo il centro della tecnologia e non il viceversa tre ve ne voglio parlare una è questa la partnership on AI quindi è un'alleanza per capire come far sì che l'intelligenza artificiale sia benefica per le persone per la società questa è una cosa nata da sei aziende quelle che vedete lì in quel quadratino nel 2016 ma adesso ha più di cento partner di cui solo metà sono aziende perché a volte molti dicono ma le aziende si autoregolamentano tra loro su cosa fare questa tecnologia l'idea no le aziende devono essere nella discussione ma chiaramente non devono essere preporderanti devono solo dire come risolvere tecnicamente le cose come si può sviluppare come si può sviluppare l'intelligenza artificiale e metterla sulla vita reale ma tutti gli altri devono essere coinvolti quindi ci sono per esempio università centri di ricerca agenzie dell'ONU istituzioni per i diritti civili eccetera quindi tutti insieme per capire sia chi produce tecnologia sia chi la usa e sia chi è impattato dalle decisioni della tecnologia per capire qual è il modo migliore per renderla benefica un altro è questa iniziativa della commissione europea la commissione europea ha detto beh in Europa io voglio capire come funziona l'intelligenza artificiale per l'Europa come può essere utile per l'Europa e quindi ha messo insieme un gruppo di 52 persone di cui meno di 10 sono gli esperti in intelligenza artificiale tutti gli altri sono tutti questi altri attori che vi ho detto e che ha pubblicato questi due documenti negli ultimi mesi uno sono le linee guida etiche per l'Europa per l'AI e un'altra sono le raccomandazioni ai politici europei per quali sono dove fare investimenti e le politiche di incentivi per aiutare in modo benefico ed etico l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa e l'Europa pur non avendo stanziamenti e fondi in quantità paragonabili alla Cina né agli Stati Uniti ma l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per capire come coniugare la tecnologia l'innovazione con l'etica e con il fatto che la tecnologia deve stare al servizio delle persone e non il contrario quindi diciamo l'Europa ha questo ruolo e sta cercando di avere sia al suo interno ma anche a livello globale ha questo ruolo di aiutare anche gli altri posti nel mondo a capire come fare come raggiungere questo compromesso l'ultima iniziativa di cui vi voglio parlare è delle Nazioni Unite allora quelle iniziative di cui vi ho parlato prima e anche molte altre che esistono tutte ragionano in un modo incrementale cioè dicono questa è la tecnologia che c'è adesso c'è tanti difetti tante cose positive eccetera cerchiamo di migliorarla evitando tutti quei problemi che vi ho detto i bias la scatola nera eccetera eccetera quindi andiamo avanti miglioriamola di passo in passo cercando di evitare i problemi che vediamo che si presentano di volta in volta ma non hanno una visione ben chiara di dove vogliono arrivare diciamo miglioriamo miglioriamo evitiamo i problemi invece questa iniziativa fa una cosa contraria questa iniziativa dice è vero che adesso c'è questa tecnologia con i suoi pro e contro eccetera ma concentriamoci su dove vogliamo arrivare e le Nazioni Unite ce l'hanno chiaro dove vogliamo arrivare sono questi sono questi che si chiamano obiettivi di sviluppo sostenibile 17 obiettivi che dicono noi vogliamo che non ci sia povertà per nessuno che non ci sia la fame per nessuno che l'assistenza medica sia per tutti insomma questi 17 obiettivi e dice quello è l'obiettivo da raggiungere è la visione del futuro questa è la tecnologia di adesso come la miglioriamo in modo da raggiungere quell'obiettivo quindi è un punto di vista diverso compatibile con gli altri che però collabora con gli altri ma è importante avere ben presente la visione del futuro alla fine beh insomma se volete sapere un po' di più su queste cose ho deciso dopo tanti articoli scientifici che leggevano solo gli esperti di pubblicare un libro che tutti possano leggere che tutti possano capire grazie signore ce l'ha già in mano e che secondo me è una cosa importante oltre a tutte le varie iniziative multidisciplinari tutte dicono che e io sono pienamente d'accordo che è importante educare tutti a cosa è questa disciplina chiaramente non tutti possiamo diventare esperti di tutto quindi io non sono esperta ai tante cose e tante persone non devono essere esperte di intelligenza artificiale ma devono capire le reali capacità e i limiti di questa tecnologia e come ci può aiutare a costruire il futuro che vogliamo perché se non capiamo realisticamente cosa ci può dare questa tecnologia poi non sappiamo usarla bene per costruire questo nostro futuro grazie a tutti grazie grazie grazie